la poesia, vi siete addimandati mai perché il poeta va sempre attorno con una foglia in mano, oppure lo porta in casa a carreta, ogni momento, a ieri, oggi rimane, perché il poeta non è come Mozart che fa il vestito su ordinazione, ci dice come voi, essa parte e fa la giacca, la camisa e il pantalone. Il poeta non scrive il suo comando, ma solo se la poesia nasce il tuo cuore, e può passare un mese oppure un anno senza che esse accoglierò le parole. Chi scrive verso o fa quando è ispirato e con mano richiama una malina, o somma ancora, nel momento nato, è solo così che nascerà la poesia. Questo è perché ogni poeta seria tene sempre una foglia rinda in mano, anche così se la vena un risaderio, subito fa, senza aspettare di mano. Grazie.